Isernia salta l'appuntamento di ottobre con l'ormai attesissima rievocazione storica il ritorno del Papa Santo che celebra la permanenza in città di Celestino V nelle giornate del 14 e 15 ottobre 1294 quando tornava dall'Aquila dove era stato incoronato il 29 agosto. Un evento scenografico con il corteo storico ricco di figuranti e di magnifici costumi curati fin nei minimi dettagli che nel corso delle sue quattro edizioni ha raccolto sempre notevole consenso sia di pubblico che di critica. Quest'anno però la macchina dei preparativi che a quest'ora sarebbe in piena attività è ferma. La rievocazione infatti è stata spostata al mese di maggio e si terrà in concomitanza con la festività dedicata al Santo che cade nella data del giorno 19 del mese mariano. Il motivo è dovuto a quanto pare ad esigenze organizzative legate al fatto che l'Associazione Arsis deputata a coordinare e gestire la realizzazione delle future edizioni della manifestazione storica insieme al Comune, alla Provincia e alla Proloco si è costituita di recente precisamente lo scorso 23 settembre. Una scelta, quella di posticipare l'evento condivisa anche con il Comune, la Proloco e la Curia Vescovile. L'obiettivo inoltre è di potenziare il cartellone legato al ritorno del Papa Santo affiancando al corteo in costume anche un lavoro di ricerca storica affidato alla Società di Studi Celestiniani. In ogni caso il mese di ottobre non rimarrà sprovvisto di appuntamenti legati agli eventi del 1224. Sono previsti eventi culturali sul tema come la divulgazione di una ricerca sui motivi del gran rifiuto, un incontro per offrire uno sguardo sul dietro le quinte delle precedenti rievocazioni e la presentazione di un progetto dedicato al cammino celestiniano.